Dal 21 agosto si comincia e abbiamo la passeggiata d'arte sui camminamenti, sono come dei tappeti volanti che sono stati storiati, mosaicati dagli artisti. Poi abbiamo chiesto di costruire tre fontane, una più bella dell'altra vedrete e poi una novità credo anche addirittura per le marche, non soltanto per la provincia di Pesaro Urbino, è la fiber art, ovvero l'arte tessile. L'arte tessile avremo nella galleria Elettra almeno 12 artiste perché questo è un vero e proprio linguaggio artistico di arte contemporanea, questa fiber art che sta andando moltissimo e ci sono musei, corsi, Brera ha già aperto un corso e noi nelle marche abbiamo anche qualcosa da raccontare, tra i telai, la canapa, il tombolo, abbiamo veramente una bella tradizione che può diventare e trasformarsi in arte. L'importanza è intanto che presentiamo in anteprima nazionale un libro sui matti romantici di Andrea Baffoni e quindi sono molto contenta di aver raggiunto questa meta, di averlo rubato da altri e quindi presentiamo questo libro. Abbiamo molte presentazioni di libri quest'anno, anche le streghe, poi ci sono i sibillini, poi ci sarà una performance di una fotografa pugliese insieme a una vocalist, tra musica, fotografia, le presentazioni di libri e poi c'è Elvio Moretti che è il nostro vicepresidente che ci parlerà nell'arte degli arazzi, tappeti, tutte le grandi manifestazioni artistiche che ci sono state col filo. Il protagonista di base quindi rimangono gli artisti, gli artisti del puro del nostro territorio. Esatto, sono 40 presenze quest'anno, vengono anche da Londra, dalla Svezia, dalla Spagna e siamo felici. Abbiamo tra l'altro nella Fiber Art due artiste marchigiane brevissime, una è Anna Maria Atturo e l'altra è la Faggi. Tutte e due stanno crescendo moltissimo e penso che ne sentirete parlare.